La hipertensione è una condizione difficile da essere gestita perché per la maggior parte del corso è semplice. Uno potrebbe avere una pressione del sangue elevato, anche a un alto gradino senza avere alcuni sintomi di signo di hipertensione. Quindi cosa fare per scoprire la hipertensione in tempo prima di fare un problema ai organi che sono sensitivi alla pressione del sangue? Beh, c'è solo una ricetta, e questa è di mesurare la pressione del sangue frequentemente, magari una volta al anno, magari una volta al anno, oltre ogni occasione, anche se hai una influenza virale, per mesurare la pressione del sangue. E questo, ovviamente, permette di scoprire il comienzo della hipertensione in tempo, e per evitare il dame di alta pressione del sangue sui organi vitali, come il cervello, il cervello e il kidney, che possono continuare semplicemente per molti anni. Quando il paziente realizzano che la pressione del sangue è elevata, questo può essere, almeno in parte, troppo tardi. e la seconda cosa importante a ricordare è seguite il consiglio e la prescrizione dei vostri doctori e adhere a la prescrizione che ha stato dato a voi, perché l'adherezza al trattamento è estremamente importante per garantire che la pressione del sangue è controllo. Se le droghe sono dato e non prendete le droghe, questo potrebbe avere seriose conseguenze per la vostra salute. Quindi, una volta che hai un doctor e il doctor ha fatto la diagnosi di hipertensione e ha dato un trattamento appropriato, dovresti seguire il trattamento.